benvenuti sul canale di rosa parlato oggi vi faccio vedere come possiamo realizzare questa bellissima borsa ispirata al modello di fendi e nello specifico la peekaboo allora io ho utilizzato la lana colora e ho realizzato prima un fondo poi i due pannelli e due laterali inoltre vedete come il modello a cui mi sono ispirata ho aggiunto queste chiusure quindi ho realizzato due strisce vedete che fanno da chiusura con una chiusura a girello l'interno è totalmente foderato con la fodera di feltro da 3 mm ho aggiunto poi vedete due anelli che vanno a bloccarsi all'interno della fodera in maniera molto semplice e due moschettoni che tengono il manico ovviamente il manico lo possiamo realizzare una misura anche più grande e ovviamente anche la borsa può essere realizzata più grande e con tutti i materiali quindi anche se volete realizzarla con cordino va benissimo detto questo vi ricordo di iscrivervi al gruppo facebook le amiche di rosa parlato youtube dove potete farmi vedere i vostri lavori inoltre nel box informazioni trovate il link per il mio primo libro di 21 progetti creativi all'uncinetto e detto questo adesso passiamo al tutorial iniziamo la lavorazione della borsa dal fondo mettiamo su 35 catenelle che sono 23 cm e in ogni punto vedete entriamo in ogni catenella e lavoriamo una maglia bassa io lavoro con uncinetto 3,5 la lana colora ma potete lavorare ovviamente con qualsiasi filato anche cotone o cordino quindi un punto basso in ogni catenella fino ad arrivare alla fine della riga quando arriviamo vedete alla fine della riga abbiamo completato la prima riga una catenella giriamo il nostro lavoro vedete io qui ho la catenella entro subito nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa e adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare a fine riga completata vedete la seconda riga di nuovo una catenella giriamo sempre il nostro lavoro qui ho la catenella vedete e nella prima maglia bassa entro e lavoro una maglia bassa lavorerò sempre 34 maglie basse totali quindi una maglia bassa in ogni maglia bassa fino ad arrivare a fine riga adesso dobbiamo proseguire con le nostre maglie basse per un totale di 16 righe circa 10 centimetri quindi adesso vado a proseguire poi vi dico quante righe ho realizzato ho proseguito e lavorato 2 4 6 8 10 12 14 e 16 righe che sono in centimetri 10 centimetri per una larghezza di 23 centimetri totali adesso dobbiamo lavorare un giro tutto intorno vedete io entro di nuovo nell'ultimo punto basso lavorato e lavoro 2 vedete maglie basse adesso in ogni riga corrispondente lavoriamo una maglia bassa allargati un po il lavoro vedete per individuare le righe e in ogni spazio lavorate una maglia bassa quindi in ogni riga corrispondente io lavoro una maglia bassa e dobbiamo lavorare in questa maniera qui in tutte le righe quindi tutto intorno al nostro fondo quando arriviamo nell'angolo vedete io lavoro nel primo punto in ogni angolo lavoro 2 maglie bassi per girare vedete quindi anche in quest'angolo lavoro 2 maglie basse e poi lavoro una maglia bassa in ogni punto questa è la nostra catenella iniziale quindi la lavorazione iniziale nella prima riga adesso noi dobbiamo andare a proseguire fino ad arrivare all'altro angolo dove lavoreremo 2 maglie basse fino all'inizio delle maglie basse arrivati vedete dove abbiamo l'inizio della riga di maglie basse entriamo nella prima maglia bassa e lavoriamo sempre due catenelle così vedete riusciamo a girare meglio il lavoro e adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare chiaramente dove abbiamo iniziato dall'altra parte a questo punto tagliamo il filo e andiamo vedete a chiudere la lavorazione quindi entriamo nel punto e chiudiamo vedete entriamo tiriamo il filo sul davanti entriamo al centro della maglia bassa quella precedente e tiriamo il nostro filo andiamo adesso chiaramente a nascondere il filo all'interno del lavoro a questo punto abbiamo terminato il nostro fondo adesso il nostro fondo misura 24 cm di larghezza per un'altezza di 11 cm adesso vedete noi andiamo a realizzare i pannelli in modo che sembra la lavorazione continua vedete quindi lavoreremo delle maglie basse al bordo vedete senza fare il punto in coste così sembrerà che il pannello sia continuo al fondo della borsa io mi sono portata avanti ho già realizzato una parte del pannello allora noi abbiamo 34 maglie basse per realizzare i pannelli e 17 maglie basse per il laterale ok quindi adesso io inizio avendo vedete i 34 punti qui visibili vedete quindi iniziamo da un lato e iniziamo entrando vedete da entrambe le asole prendiamo il nostro filo e ci agganciamo con una catenella entro di nuovo vedete nello stesso punto e lavoro una maglia bassa per gli principianti se avete difficoltà qui andate a mettere un marca punti a questo punto vedete non dobbiamo fare altro che entrare in ogni punto vedete in ogni punto basso e lavorare una maglia bassa lavorando un totale di 34 maglie basse vedete andate a proseguire fino alla fine una volta vedete che ho completato la prima riga questo sarà il risultato adesso tutta la lavorazione del nostro pannello sarà eseguita in questa maniera lavoreremo sempre tre maglie tre righe di maglie basse e una riga con una diminuzione all'inizio e alla fine quindi adesso una catenella giro il mio lavoro e vado a completare la seconda riga e una terza riga quindi lavoreremo tre righe a maglia bassa di giri di andata e ritorno quindi arrivo alla fine della riga una catenella giro il lavoro e realizzo poi anche la terza riga quindi io adesso vado avanti e lavorerò tre righe complete una volta vedete che ho completato le tre righe di maglia bassa 1 2 e 3 righe la quarta riga sarà una riga con diminuzioni quindi una catenella giro il mio lavoro entro guardate qui ho la catenella entro nel primo e carico il filo entro nel secondo e carico il filo e chiudo tutto insieme e adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga dove realizzeremo un'altra diminuzione arrivata alla fine della riga vedete ho gli ultimi due punti entro nel penultimo carico il filo entro nell'ultimo e carico il filo ho tre fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme io ho realizzato vedete un'altra diminuzione ovviamente vedete sarà visibile nei lati man mano che andiamo a lavorare adesso per tutta la lavorazione realizzeremo quattro righe totali tre righe di maglia bassa e una riga con una diminuzione all'inizio e alla fine quindi adesso lavorò le tre righe di nuovo una riga di diminuzione poi tre righe una riga di diminuzione fino ad arrivare ad un totale di 23 righe quindi andate a completare 23 righe totali con la sequenza appena spiegata allora una volta vedete che ho terminato anche l'altro pannello avrò questa forma qui vedete guardate guardate bene dovete avere questa forma ok in questa maniera adesso io devo andare a fare un giro di maglie basse tutte intorno al nostro pannello totale quindi anche prendendo il fondo ovviamente con la realizzazione di 23 righe io ho praticamente vedete sono all'interno della borsa vedete perché se guardate il fondo qui abbiamo le maglie basse quindi io sono all'interno quindi che cosa faccio innanzitutto metto un segnino qui perché dopo devo fermarmi qui quando andrò a completare tutte le righe quindi inizio lavorando un'altra riga qui quindi una catenella vedete giro il mio lavoro e qui completo già la prima riga quindi la faccio in anticipo ok quindi entro vedete sempre nel primo punto basso e completo le 24 maglie basse in modo da trovarmi vedete da quest'altro lato e iniziare il punto di maglie basse tutto intorno al nostro pezzo e completerò ovviamente la riga fino ad arrivare a questa maglia bassa quindi adesso completo le 24 maglie basse una volta vedete che ho completato le mie 24 maglie basse devo semplicemente adesso andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto e poi salirò vedete anche sul fondo quindi io mi trovo qui ho realizzato la 24esima maglia bassa entro di nuovo lavoro un'altra maglia bassa vedete nell'ultima maglia bassa per permettermi di girare il lavoro entro nella prima riga e lavoro una maglia bassa allargate un po' il punto per identificare le righe entro nella seconda riga e lavoro la seconda maglia bassa qui vedete ho un'altra riga entro e lavoro un'altra riga quindi in ogni punto corrispondente ad una riga noi lavoriamo una maglia bassa ecco vedete se allargate il lavoro le individuate più facilmente quindi una maglia bassa in ogni riga corrispondente fino ad arrivare dove vedete inizia il mio fondo quando arrivo vedete dove inizia il fondo il mio fondo inizia qui vedete qui ho quello che può sembrare vedete no sembrare è la riga la prima riga proprio non entro qui vedete questo punto lo salto entro direttamente sul fondo e lavoro vedete la prima maglia bassa in questa maniera qui adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa del fondo facendo questo vedete sembra che il pannello sia stato lavorato vedete interamente quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa arrivo vedete dove ho la parte del laterale guardate bene qui vedete la prima riga non entro qui ma entro in quella dopo vedete in questa maniera sembra più dritta la lavorazione ecco perché saltiamo solo la prima riga ok adesso ovviamente dovete andare a proseguire così una maglia bassa in ogni riga corrispondente allargate sempre la lavorazione per vedere che non saltate nessun punto eh mi raccomando e ovviamente arriviamo fin dove vedete abbiamo le maglie basse e andremo a completare anche questa parte gireremo di qua fino ad arrivare vedete dove abbiamo il marca punti quindi andiamo a completare ovviamente qui sul punto nell'angolo andremo a lavorare sempre due maglie basse quindi in ogni angolo quando girate lavorate sempre le due maglie basse io adesso vado a completare fino ad arrivare al marca punti quando arrivo vedete nel punto quindi qui significa che io mi devo fermare taglio un po' di filo io lo taglio un pochino più abbondante perché poi lo userò per andare a cuscire quindi sfilo il filo abbondante e vado a chiudere vedete qui dove ho il marca punti entro in questa maniera qui guardate bene tiro il filo e poi lo faccio passare guardate in questo punto al centro come vedete e tiro il filo dietro e lo lasciamo così ovviamente perché poi ci servirà per andare a cuscire adesso andiamo a preparare il laterale allora per il nostro laterale io metto su 16 catenelle vedete in ogni punto entro semplicemente lavorando delle maglie basse adesso dobbiamo andare a lavorare un totale di 23 righe quindi le stesse righe che abbiamo lavorato per il nostro pannello quindi lavoriamo delle maglie basse alla fine dell'ultima maglia basse una catenella giriamo il lavoro e di nuovo maglie basse avremo 15 maglie basse da lavorare per 23 righe una volta vedete che ho lavorato le mie 23 righe il mio lavoro si presenterà in questa maniera qui adesso vedete come per i pannelli andiamo a lavorare un giro di maglie basse tutto intorno quindi entro vedete nel punto e semplicemente vado a lavorare una maglia bassa per ogni riga quindi alla stessa maniera di pannelli con il fondo vedete la lavorazione è la stessa quando arriviamo in ogni angolo lavoriamo due maglie bassi in ogni angolo e questa volta completeremo tutto il giro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato quindi completiamo l'intera riga fino ad arrivare dove vedete abbiamo iniziato una volta vedete che io ho completato il mio giro tutto intorno quindi un giro completo adesso devo andare a fare una riga o due per creare un po' di bordino qui nei lati vedete per andare poi a cuscire in maniera diversa dal solito il nostro laterale quindi adesso vedete io mi trovo qui che ho completato vedete la riga adesso entro guardate qui proprio qui in coste e lavorerò di giri di maglia una riga completa ma di andata e ritorno e ritorno io inizio qui vedete completo la riga arrivo da quest'altro lato poi giro il lavoro e torno indietro quindi non completiamo in tondo ma solo sulle tre parti del fondo quindi io vado a proseguire fino ad arrivare da quest'altro lato quando arrivo vedete al lato opposto come potete vedere si crea proprio un bordino nei lati adesso noi semplicemente guardate una catenella giriamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto prendendo entrambe vedete le asole quindi io lavoro entrambe vedete le asole in questa maniera qui e vado a completare tutta la riga fino ad arrivare sempre allo stesso lato vedete quindi lavoriamo solo i due lati opposti nei lati e la base quando arrivo vedete nell'ultimo punto laterale questo è il primo punto vedete delle maglie basse semplicemente lavoro una maglia bassa taglio il filo a uno dei laterali ovviamente anche lì lascio un po' di filo abbondante all'altro invece l'abbiamo lasciato vicino al pannello vedete andiamo a realizzare due di questi laterali praticamente identici allora adesso vedete dobbiamo andare a posizionare i due laterali iniziamo da uno io vado a fissarlo diversamente dal solito vedete dove abbiamo questa piega sporgente dobbiamo andare ad appoggiare in questa maniera qui vedete il laterale io metto dei marca punti e degli spillini scusatemi in questa maniera vedete per fissarle al bordo guardate bene quindi questo è il bordo e il laterale la parte laterale è fisso così vedete quindi questa parte qui cercate di farla allora con la telecamera è più difficile farvi vedere però penso che si capisca bene vedete una volta così e quindi così vedete il bordo fatevi aiutare dalla treccina vedete che la treccina deve leggermente fuoriuscire facciamo la stessa cosa anche di qua ovviamente e grazie ed ecco qui ho più o meno fissato ovviamente per andare a cucire allora fissiamo anche l'altro ovviamente ok fissiamo entrambe e andiamo a cucire adesso iniziamo a cucirne uno insieme grazie quando arrivo vedete da quest'altro lato andate sempre a fissare bene le cuciture in modo che i fili non scappino ovviamente andiamo a nascondere bene bene all'interno il filo più volte e poi ovviamente andiamo a tagliare ora ovviamente andiamo a cucire l'altra parte una volta vedete che io ho cuscito i laterali la mia borsetta avrà questa forma a questo punto vedete io ho cuscito adesso la mia fodera vedete quindi il pannello che abbiamo tagliato e poi ho cuscito vedete i laterali alla fodera e abbiamo realizzato la forma vedete della borsetta adesso andiamo a infilare all'interno io vado già a cuscire la fodera prima di proseguire per la borsa allora guardate io posiziono in questa maniera qui vedete la mia fodera perché questa fodera rigida darà la forma alla borsetta è importante questa cosa vedete con la fodera la borsa prende proprio la forma che noi vogliamo dare alla borsetta allora io vado a fermare con dei ganci ma anche con degli spillini vedete l'importante è che fermate e adesso vado a cuscire con del filo di nylon ho completato vedete la cuscitura con il filo di nylon adesso andiamo a cuscire quello che sarà la fascia di chiusura della borsa allora iniziamo con 35 catenelle e in ogni catenella lavoriamo una maglia bassa una maglia bassa in ogni punto alla fine avremo 34 maglie basse una catenella e giriamo il lavoro quindi faremo 34 maglie basse e due righe vedete di maglie basse totali da 34 punti una volta vedete che abbiamo completato le nostre due righe una catenella giriamo il lavoro e lavoriamo un totale di 15 maglie basse quindi una maglia in ogni maglia bassa fino ad arrivare a un totale di 15 maglie basse arrivate vedete a 15 maglie basse una catenella e giriamo il nostro lavoro qui abbiamo la catenella andiamo subito nella prima maglia bassa e lavoriamo sempre le nostre 15 maglie basse fino ad arrivare alla fine ed ecco vedete che stiamo praticamente creando lo spazio centrale quindi avremo due righe vedete da 15 maglie basse nel lato sinistro adesso tagliamo questo filo nodino di sicurezza e ci agganciamo vedete ci troviamo così ci agganciamo dal primo punto al lato destro quindi vedete entro all'interno carico il mio filo una catenella entro di nuovo vedete nello stesso punto e realizzo una maglia bassa e anche qui lavoriamo un totale di 15 maglie basse e lasciando al centro solo 4 maglie basse vedete ora una catenella giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo le nostre 15 maglie basse quindi andate a continuare e lavorate le altre 15 maglie basse fino a fine riga adesso quindi vedete una catenella noi ci troviamo in questa situazione qua vedete se avete lavorato correttamente vi trovate così giriamo il lavoro e adesso lavoriamo ovviamente le 15 maglie basse quindi arrivate alla quindicesima maglia bassa a questo punto vedete noi abbiamo le 4 maglie basse centrali 1, 2, 3, 4 e lavoriamo 1, 2, 3 e 4 catenelle e subito vedete sulla prima maglia bassa entriamo e lavoriamo una maglia bassa vedete in questa maniera qui adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare alla fine della riga a questo punto vedete una volta che ho completato realizzo una catenella giro il mio lavoro e di nuovo una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare dove vedete ho le catenelle adesso vedete una volta che ho completato le maglie basse sulle maglie basse adesso su ogni catenella lavoro una maglia bassa quindi devo lavorare un totale di 4 maglie basse vedete una maglia bassa su ogni catenella devono essere un totale di 4 vedete e di nuovo poi sulle maglie basse vedete del restante della parte del pezzo e così andiamo a proseguire fino alla fine una volta vedete che ho completato una catenella giriamo il lavoro e adesso dobbiamo andare a completare un'altra riga completa quindi un'altra riga di maglie basse una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine a questo punto vedete io ho completato quella che è la mia striscia di chiusura adesso io mi trovo qui vedete e nei lati non faccio altro che realizzare guardate un'altra catenella c'è un'altra maglia bassa scusate all'interno e in ogni punto lavoro vedete lineare lavoro delle maglie basse in questa maniera qui abbiamo un totale di 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse adesso una catenella giro il lavoro entro nel primo punto e carico il filo entro nel secondo e carico il filo e chiudo tutto insieme e lavoro 1 2 3 o vedete qui le ultime 2 maglie basse entro nella prima carico il filo entro nella seconda carico il filo 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme una catenella e giro il mio lavoro adesso di nuovo carico un filo carico il secondo e chiudo tutto insieme una maglia bassa e carico il filo in quella dopo carico in quella dopo e chiudo tutto insieme e così vedete ho creato una leggera punta una catenella giro carico il filo carico il filo qui chiudo tutto insieme e una maglia bassa ed ecco qui vedete che abbiamo completato la nostra punta da un lato ovviamente adesso faremo la stessissima cosa anche da quest'altro lato quindi fate la stessa cosa ci agganciamo vedete carichiamo il filo in questa maniera qui una catenella lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse di nuovo una catenella giriamo il lavoro carichiamo il primo filo il secondo e chiudiamo tutto insieme e lavoriamo 1 2 3 e negli ultimi due carico il primo filo carico il secondo e chiudo tutto insieme una catenella giro il lavoro carico il primo filo carico il secondo e chiudo e una catenella una maglia bassa scusate entro carico il filo e carico il filo nel secondo una catenella giro il lavoro giro il lavoro carico il filo nel primo carico il filo nel secondo chiudo tutto insieme e una maglia bassa e anche di qua vedete abbiamo realizzato la punta in modo che abbiamo le punte da entrambe vedete i lati ok adesso vado a fare un giro tutto intorno quindi mi trovo in questa maniera qui andiamo a fare un giro tutto intorno alla lavorazione quindi entro vedete nello stesso punto una maglia bassa una maglia bassa qui una maglia bassa nel prossimo qui abbiamo le maglie basse quindi sarà più semplice ovviamente dopo nascondete tutti i fili una maglia bassa una maglia bassa e vado a completare una maglia bassa tutto intorno e mi fermo quindi completo tutto il giro vedete vado a completare tutto il giro fino ad arrivare dove ho iniziato quando arrivo vedete dove ho la prima maglia bassa dove ho iniziato la lavorazione chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui tagliamo ovviamente il filo e lo vado a nascondere come vi ho fatto vedere come vi faccio vedere sempre e poi ovviamente lo nascondiamo all'interno della lavorazione a questo punto vedete abbiamo terminato la lavorazione adesso andiamo a fare una striscia un'altra striscia praticamente identica una volta vedete che le due parti sono completate io vado a riciclare vedete una parte di questa rete che è sagomata e la vado a ritagliare vedete esattamente più o meno della misura della lunghezza lasciando però una riga sia sopra che sotto mi servirà ovviamente anche vedete una chiusura a girello eccola qui e questa parte qua verrà incastrata vedete dentro la fascia di chiusura e questa dopo verrà incastrata nell'altra fascia che andiamo a realizzare per il dietro quindi io vado vedete a ritagliare ovviamente voi potete usare una qualsiasi rete o anche del feltro quindi non è che dovete usare per forza la rete io ho questa rete che praticamente era difettata e quindi l'ho riciclata ok quindi io vado a tagliare vedete esattamente questa parte vedete qui e poi taglierò anche qui centrando ovviamente vedete la parte centrale del foro una volta vedete che ho tagliato pari pari vedete questa maniera tolgo le viti da questa parte in questa maniera qui vedete ok ora questa è la parte frontale quindi noi dobbiamo andare a infilare questa parte vedete in quella frontale vediamo e qui ovviamente dobbiamo appoggiare la rete che farà da sostegno vedete io l'ho tagliata più o meno ovviamente dovete prendere le misure per fare questo e dopo vado a posizionare di nuovo vedete questa parte qui appoggiamo sopra quindi più o meno cerchiamo di prendere le misure ovviamente meglio è possibile e adesso vado ad avvitare vedete queste levitarelle all'interno una volta vedete che ho fissato bene bene vedete la chiusura dopo vado a cuscire la parte è importante che fissate prima bene bene il gancio quindi controllate bene che sia stretto così vedete quindi ho la rete all'interno vedete le due parti così e così e adesso ovviamente andiamo a cuscire una volta vedete che abbiamo cuscito la fascia si presenterà in questa maniera qui adesso andiamo a preparare la fascia per il dietro per la parte dietro vedete noi dobbiamo lavorare la stessissima lavorazione con la differenza che non faremo il foro praticamente vedete io lavoro sempre le sette righe quindi 34 catenelle sette righe andate in ritorno e vedete alla terza riga io già evidenzio guardate vedete 1 2 3 evidenzio i 4 punti centrali vedete mi metto già un segnino perché perché io poi qui vedete dovrò andare a infilare vedete la chiusura perché andrà ovviamente vedete in questa maniera qui ok quindi semplicemente alla terza riga lavorerete le 15 maglie basse e centrerete i 4 punti io ho usato vedete due marca punti al centro qui ho messo del filo però insomma trovate voi un sistema l'importante che andate a centrare i 4 punti isolate in modo che dopo non dovete impazzire ovviamente per centrare è comunque semplice perché basterebbe contare le maglie però è ovvio che quando poi abbiamo fatto tutta la lavorazione potrebbe essere difficile andare a centrare la lavorazione quindi dovete andare a proseguire alla stessa maniera dell'altra lavorazione vedete faremo sempre le diminuzioni nei lati giro tutto intorno quindi sarà praticamente identico ovviamente lavoreremo un lato sempre per il dietro e un lato sempre per il davanti alla stessa maniera io ovviamente vado a segnare il centro di un solo lato adesso vedete il procedimento è lo stesso c'è solo una differenza al centro invece di fare il foro io semplicemente vedete aperto solo vedete una piccola stecchettina dove infilerò questo vedete quindi adesso avendo anche preso la misura qui noi infiliamo ovviamente questo lo togliamo infiliamo qui e qui dove abbiamo centrato o più in giù vediamo un po' dove è più corretto eccolo qua allora diamo l'occhiata sì e quindi adesso qui vedete ho preso ovviamente il segno mettiamo la piastrina vedete così allora io adesso le abbasso ovviamente con le mani però poi con una pinza le vado a stringere bene bene ovviamente togliamo i marca punti perché a questo punto non ci servono più ok vedete quindi abbiamo stretto bene bene adesso ovviamente il sistema è lo stesso dobbiamo prendere e dobbiamo andare a cucire vedete le due parti l'una sull'altra alla stessa maniera di come abbiamo fatto per la parte vedete frontale adesso in questa maniera vedete la chiusura combacerà benissimo ok quindi andate a cucire intorno una volta vedete che io ho completato le due chiusure controlliamo sempre che i punti non devono essere allentati come potete vedere le chiusure la chiusura verrà si chiuderà in questa maniera qui quindi una volta che abbiamo completato vedete le due chiusure adesso andiamo a fare il bordo di passamaneria per la cucitura vedete questo bordino io vado ad usare sempre la lana colora però un colore di contrasto in questo caso sto usando il marmotta quindi voi potete usare qualsiasi colore sia di contrasto vedete io ho fatto semplicemente dei punti di cucitura con ago e cotone inizio quindi vedete mi tengo praticamente per farvi capire inizio tenendomi sul bordo sotto la prima riga vedete delle maglie basse quindi inizio in un punto lascio ovviamente un po' di codina e dentro vedete nel punto dopo ovviamente guardiamo anche dietro in modo che anche dietro venga non venga praticamente la cucitura ondeggiante leggermente poi vedete salto questo punto e entro da dietro così diamo sempre un'occhiata anche dietro e così ovviamente non dobbiamo tirare il filo troppo perché altrimenti vedete se tiriamo troppo poi rientra adesso vedete dove abbiamo qui la B guardiamo anche sempre dietro vedete il punto ed ecco qui e con delicatezza facciamo così adesso vedete nel prossimo guardiamo sempre dietro e così via io ovviamente farò tutto il bordo giro sempre con lo stesso criterio vedete sotto la prima riga delle maglie basse vedete e poi vado a proseguire fino ad arrivare dove ho iniziato quando arrivo vedete a completare l'ultimo punto io lo completo proprio dove ho iniziato faccio un semplice nodino all'interno e poi cerco ovviamente sempre di nascondere all'interno del lavoro il filo anche se è di un altro colore non vi preoccupate nascondetelo così e nascondiamo ovviamente anche l'altra codina vedete la infiliamo all'interno della lavorazione e tagliamo adesso non ci resta che andare a cucire alla borsa dovete centrare il punto della borsa in modo che noi dobbiamo andare ovviamente a posizionare posizioneremo il lato di dietro in questa maniera qui vedete al centro dove abbiamo la chiusura e al centro di questa così quindi verranno centrate vedete in questa maniera qui qui è la parte retro quindi noi centreremo questa così e questa parte del davanti andrà così in modo che quando la borsa si chiude vedete l'effetto sarà questo qui allora vedete io ho bloccato in questa maniera qui questa parte vedete dei due righe l'ho bloccata sulla parte anteriore e qui dove abbiamo la passamaria quindi le due righe sulla parte vedete dietro in questa maniera qui inizio adesso vedete da un lato della borsa quindi da questo punto vedete e vado ad entrare ovviamente dal punto retro così lascio una codina che dopo ovviamente andiamo a nascondere adesso da questo punto entriamo in uno vedete davanti e andiamo a coscire tutta la parte così vedete così e dietro così e sul davanti poi vedete a fianco sul davanti e dietro e andiamo a coscire così ovviamente per tutta la lunghezza e vado a proseguire vedete fino all'angolo quando arrivo vedete dall'altro lato quindi ho completato vedete la cuscitura eccola qui io che cosa faccio per rinforzare vedete adesso continuo la cuscitura all'indietro e faccio in questa maniera qui prendo vedete un pochino anche di questa lavorazione dove ho e vado a fissare vedete questo bordino a quest'altro vedete questo bordino qua così 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 la cuscitura è più forte ovviamente inoltre vedete non si vedrà questa apertura un po' più antiestetica vedete viene più chiusa la lavorazione e vado a proseguire ovviamente fino alla fine quando ho completato vedete la cuscitura ovviamente vado ad infilare il filo un pochino più internamente e poi taglio e a questo punto vedete abbiamo terminato le cusciture ovviamente vedete se abbiamo lavorato correttamente i nostri lati vedete combaciano perché abbiamo messo la chiusura giusta al centro in più vedete io ho realizzato un foro guardate che passa proprio attraverso la la fodera di filtro per mettere i due anelli per fissare poi i manici una volta vedete che ho messo le mie calamite o bottoni magnetici ecco qui vedete l'effetto una volta chiusa andiamo adesso a fare il manico allora per il manico metto su 40 catenelle e vado semplicemente in ogni punto a lavorare una maglia bassa vedete una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga quando arrivo vedete nell'ultimo punto all'interno entro più volte e realizzo degli aumenti per girare quindi lavoro una seconda maglia bassa una terza e una quarta maglia bassa vedete all'interno dell'ultimo punto e poi vado di nuovo su ogni punto vedete frontale alle maglie basse che abbiamo già realizzato quindi vedete qui ho delle maglie basse frontale vedete nello spazio entro e lavoro una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga arriviamo vedete nell'ultimo punto dall'altro lato e alla stessa maniera anche qui dobbiamo fare degli aumenti quindi io lavoro 1 2 e 3 maglie basse perché qui vedete già abbiamo l'altra maglia bassa e di nuovo inizio a lavorare su ogni maglia bassa una maglia bassa fino ad arrivare all'altro lato quando arriviamo vedete dove abbiamo gli aumenti 1 2 3 4 semplicemente entriamo in ogni punto realizziamo 2 maglie basse su ogni maglia bassa degli aumenti quindi 2 le ho fatte altri 2 4 altri 2 nel prossimo e altri 2 vedete nel prossimo quindi 8 maglie basse totali nel laterale adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa e ovviamente faremo la stessissima cosa anche sull'altro lato quando arriviamo dall'altro lato anche qui su ogni maglia bassa lavoriamo 2 maglie basse quindi ripeto le 2 maglie basse su ogni punto sempre su 4 maglie basse dobbiamo anche fare da quest'altro lato adesso io vado a tagliare un po' di filo più abbondante per fare un punto che ci permetta di non slabrare il manico quindi guardate io taglio un po' di filo più abbondante vado a chiudere come vi faccio vedere sempre così poi passo così prendo il filo e poi mi aiuto con un ago a punta tonda vedete quindi da dietro così esco qui al centro in questa maniera qui adesso entro guardate in ogni foro così e così vedete e tiro il filato e facciamo così ovviamente per tutti i fori vedete così e e in questa maniera abbiamo disteso vedete il manico e anche se leggermente slabbra ma non più di tanto vedete è impossibile perché abbiamo fatto ovviamente questo punto centrale adesso ovviamente andiamo a passare anche la passamaneria del colore di contrasto adesso vedete il criterio sarà lo stesso noi semplicemente guardate ogni punto sotto la lavorazione della prima maglia andiamo a ricreare vedete il punto così vedete anche quando arriviamo nella curva faremo la stessa cosa vedete sempre lo stesso criterio quindi sotto la prima riga di lavorazione andiamo a realizzare tutti i punti fino ad arrivare dove abbiamo iniziato una volta vedete che abbiamo completato tutta la nostra passamaneria andiamo a cuscire vedete semplicemente infiliare il mano all'interno di questo gaggio ripieghiamo e andiamo a fare una semplice cucitura vedete con ago e filo e andiamo a nascondere anche la codina una volta vedete che abbiamo agganciato il manico risulterà in questa maniera qui ovviamente quando andiamo a chiudere vedete la borsa in questa maniera non dà alcun fastidio potete realizzare ovviamente anche un manico più lungo questo è opzionale questo vedete sarà il nostro risultato è Grazie a tutti